Nata dall'idea di Due Sanseveresi, un giovane panificatore e un giovanissimo manager del food marketing, la Bacchery Cool. Start-up nata per la promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio di Capitanata. Il progetto ha la mission di mettere in rete le aziende di eccellenza enogastronomica, presentandole in chiave innovativa. Bacchery Cool è un progetto ideato da Antonio Ciavarella. Stiamo creando un progetto ambizioso e innovativo dove daremo rilevo a quelle che sono le eccellenze locali, come ad esempio la Bioorto o il Birrificio Matà. L'idea nata da me, panificatore di esperienza plurionale, e Antonio, che si occupa di gestione e di impresa, è un modo per andare a rivalorizzare i piatti che erano in un tempo dei nostri nonni. Possono essere una paposcia vichese o come anche delle frise con prodotti locali. Gli appassionati del gusto sono invitati il 4-5 agosto a Vico, in piazza Largo del Conte, dove daremo vita a un percorso di gusto sensoriale, dove andremo a rivisitare piatti tipici del nostro territorio, dando con la nostra creatività il giusto apporto a queste pietanze. La mia esperienza in gestione d'impresa e la conoscenza del territorio mi ha portato ad unire più entità del territorio, a creare insieme a Fabio Boncristiano la Bacaricool. Bacaricool sarà presente per la prima volta come sua prima uscita al Mukanda Festival, che si darà il 3-4-5 a Vico del Gargano. Partner della Bacaricool per l'evento Mukanda, la Bioorto, azienda di Apricena specializzata in prodotti biologici. La Bioorto è un'azienda agricola che produce e commercializza prodotti biologici. I mercati di riferimento sono quelli del Nord Europa, Svizzera, Germania, paesi scandinavi e una fetta viene anche venduta in Italia. L'azienda agricola si è sita in Apricena, provincia di Foggia. Da quest'anno abbiamo introdotto una nuova referenza, olio d'oliva extravergine biologico, che produciamo e imbottigliamo direttamente noi nel nostro nuovo frontoio.